E' una mattinata importante perché si è riusciti a mettere attorno a un tavolo tutti i sindaci per discutere di una tematica delicata, sentita ed è importante soprattutto perché non succede così spesso, diciamoci la verità, Procida assurge al ruolo di capofila. Io posso dire di essere contento, sono contento che stamattina sono qui insieme ai miei colleghi e sindaci dell'isola di Ischia. Abbiamo territori simili e quindi è giusto affrontare in una sede anche politica quelli che sono i temi dei nostri territori. Sicuramente oggi abbiamo una grande emergenza che è quella del reperimento delle risorse finanziarie per mettere in esecuzione le resa e tutto ciò ci comporta oggi ad agire come sindaco in rappresentanza di una città, di un'isola. Perché noi abbiamo la capacità di guardare anche oltre quello che è l'immediata esecuzione di una sentenza passata in giudicato. Io sono seriamente preoccupato delle risorse finanziarie che devono essere tolte dai bilanci dei nostri comuni. E queste risorse, non è vero che è una partita di giro, queste risorse sono dei futuri buchi di bilancio. E su questo io sono fortemente preoccupato. Io ho la necessità di garantire un futuro al mio territorio, alla mia isola, devo garantire i miei concittadini, i miei giovani che devono avere dei servizi. Oggi andare a reperire risorse per poter mettere in esecuzione delle sentenze passate in giudicato è sicuramente un atto doveroso. E' altrettanto doveroso però spiegare che tutto ciò comporterà una grande difficoltà gestionale per il mio comune. Si aspettava una risposta così massiccia e soprattutto sentita dei suoi colleghi? Sì, me l'aspettavo perché è un tema sentito. Noi oggi attraversiamo un paradosso, che è quello di questo vuoto di rappresentanza in sede legislativa. Cioè voglio dire, noi, mentre prima la Campania era uno dei territori forse più rappresentato nel governo, ci sono stati periodi storici in cui abbiamo avuto ministri, moltissimi ministri. E quindi diciamo che il Mezzogiorno d'Italia era ben rappresentato e c'era forse la cura del territorio. Oggi, forse a causa anche di questa legge elettorale, noi vediamo che c'è un vuoto tra l'ente territoriale e poi chi ci rappresenta in Parlamento. Ci sono degli sforzi, per carità ci sono delle eccezioni, ma tutto ciò l'eccezione abbiamo visto che non basta. Proprio perché abbiamo oggi, secondo me, una cultura diversa, politica, una cultura politica diversa. Cioè noi abbiamo un rappresentante delle istituzioni in sede parlamentare, cioè un deputato eletto nel nord Italia, che sicuramente di questi problemi non ne sa e non li conosce. E va ad immaginare che tutti coloro che parlano di abusivismo, c'è una stretta correlazione con la camorra, con le attività delittuose. Io invece, che conosco il mio territorio, che conosco l'abusivismo di necessità del mio territorio, non posso assolutamente non gridare che tutto questo non è vero e che andrebbe affrontato serenamente in sede legislativa l'argomento per cercare di trovare delle soluzioni. E le soluzioni devono essere trovate solo nella sede legislativa. Oggi continuare a fare questa processione tra le procure, procura generale o procura della Repubblica, è inutile. Perché i magistrati fanno il loro dovere, lo devono fare, i sindaci fanno altrettanto il loro dovere quando delle volte sono costretti a mettere in esecuzione delle sentenze, però devono evidenziare le difficoltà che ci saranno in futuro.